le macchinine colorate soccorrono la macchina nera oggi le nostre amiche le macchinine colorate si muovono con grande energia con i blocchi celesti stanno componendo una torre molto alta che sarà il centro di una città che vogliono costruire attenzione la macchina nera ha distrutto tutto e non si è nemmeno fermata eccola ehi auto nera rallenta è pericoloso come al solito fa la sgruppona e finisce con un incidente ora è incastrata sotto ai blocchi macchinine presto la macchina nera ha combinato un altro guaio ma dobbiamo aiutarla chi è d'aiuto guardate un muro di blocchi eh sì continua a chiedere aiuto adesso sa che la stiamo aiutando non c'è altra soluzione che togliere i blocchi una alla volta ma sono troppi macchinina verde che cosa vuoi fare è troppo pesante per una macchinina eh sì macchinina rossa non è un lavoro facile a che stai pensando hai avuto un'idea e la macchina blu provvede una pala meccanica coloratissima e un camion gru alla richiesta di aiuto i due potenti mezzi non si fanno pregare un vero e proprio cantiere di salvataggio le macchinine danno una mano ma guardate adesso che potenza il camion gru e la pala meccanica che meraviglia spinge lontano tanti blocchi insieme guardate che capacità ancora qualche trave ed ecco che le macchinine spostano gli ultimi blocchi macchinina nera sei libera ma devi scusarti per quello che hai combinato e prometti che sarai prudente torniamo a costruire la nostra città dei blocchi con la torre al centro ma c'è una novità anche la macchina nera vuole aiutare ma le nostre amiche hanno in mente un gioco fantastico alla prossima puntata ciao